Bellissima a tutti raga e ben ritrovati in un nuovo video di PokéShiny Siamo sempre nel video di Pasqua Loading 2018 E solitamente io recensisco sempre le uova, quelli o da maschio Oppure da bambino, diciamo così, da ragazzo Oppure, sì la voce ancora non mi torna per com'è, benissimo Ci mi durerà vita questo abbassamento di voce, spero di no Appena finisce sto freddo del cavolo Comunque stavo dicendo che io solitamente recensisco quelli da bambino, da maschio Oppure quelli unisex Oggi però vi porto l'uovo delle LOL Puoi trovare l'originale bambola LOL Pearl, che sarebbe questa penso Nuova formula, sensore di palma Allora questo qui è di... Dove, 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 dove Ah l'ho strappato, comunque è di 200 grammi Ed è costato 7,90 euro Ora se su internet non dicono cavolate Perché su internet ne girano di cazzate, diciamola come sta Dovrebbe esserci anche l'altro formato più grande da 350 grammi Questo è quello da 200 E quindi Bambola LOL Pearl Probabilmente perché ha i capelli bianchi Quindi è perlata Comunque vediamo, 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 vediamo Cosa troviamo in questo uovo Allora la carta E' molto semplice Cioè non... Ho messo i colori della bandiera O francese o statunitense, fate voi E della dolci preziosi Ma... buh, secondo me l'incarto lo potevano fare meglio Invece che... buh, non lo so Comunque, vabbè, tolto questo Mi servono le forbici Aspettate un momento Che qui c'è l'antitaccheggio Praticamente Allora Eh... questo va qui Aspettate Come al solito buttiamo una carta che a noi non ci serve Cioè guardate I bastardos Che cosa... che bicchierino alto che metto per far sembrare l'uovo più alto Più grande, diciamo Guardate, guardate Cioè... è quasi quanto l'uovo il bicchiere Imbroglioni Imbroglioni maledetti Vabbè Comunque Sto scherzando eh Sì Ah... qui c'è rimasta la plastica Vediamo un po' cosa troviamo Ab... allora Assaggiamo il cioccolato Che è la cosa che mi dà più soddisfazione Con queste sorprese di merda Che è la cosa che mi dà più soddisfazione con queste sorprese di merda Cioè... veramente Tipo la bambola L'avranno messa su... Una su centomila uova Poi guarderò su internet Man mano che la gente compra le uova e fa i video recensione Per chi compra le uova della LOL Delle LOL Ehm... Voglio vedere se qualcuno la trova sta bambola Allora... qui ci sono diversi Personaggi delle LOL che io ovviamente non conosco Questi finiranno a mia sorella Appenato in Italia Per Pasqua Gli li porto Da colorare E qui... C'è ma guardate che cagata Ma pure questo Potranno fare una cosa un po' più Qua c'hanno i famosi Ehm... Colori A matita A differenza Diciamo Di molte altre sorprese che mettono Questo tipo Perché... Questo tipo di sorprese se lo metto in tante uova per bambini eh Da Doraemon A Superwings Insomma... Parecchi C'è... Il tempera matite Che nelle altre non c'è Nelle altre sorprese non ho visto Questi sono i colori C'è veramente Non... Non ho parole Quindi c'è Per trovare questa bambola praticamente Non so quante uova dovete comprarvi Dovete proprio avere un C Della Madonna Perché ne comprate uno e trovate La bambola LOL Pearl Va bene comunque vedrò poi le altre aperture perché sono curioso di vedere Che tipologie di sorprese metteranno Perché non vorrei che questo lo mettono come attira Attira... Acquirenti Mi veniva la parola Però queste bambole o non ci sono proprio Questa bambola o non c'è proprio O... Cioè... Ma... Te le ripeto Uno su... Centomila Va bene ragazzi Allora questo uovo di merda C'è l'apertura di questo uovo di merda Il cioccolato è buono però quindi E... E... Termina qui E noi ci vediamo per altre aperture Sia... Di uova... Po... Eh sì uova pokemon Di uova di pasqua e ovviamente anche di pokemon E... Non so se faranno nuovo pokemon quest'anno Su internet non ne parlano al momento Quindi... Poi... Quando arriveranno le uova al completo vi saprò dire Bye raga alla prossima Ciao